particolare e importante della regione? Sì, c'è anche un grado di soddisfazione personale, devo dire, lasciatemelo dire, perché insomma nel giro di un anno la misura, questo reddito di solidarietà è partita, oggi sono quasi 8.000 le famiglie, quindi un numero di individui molto maggiore, che ha in mano il reddito di solidarietà che abbiamo progettato, elaborato insieme ai nostri 300 comuni, che consente anche di acquistare per persone in condizione di grande disagio, beni primari o di dare un aiuto ad anziani soli che magari hanno il problema delle utenze. In cambio ovviamente chiediamo un coinvolgimento attivo dei cittadini, le domande in regione continuano ad essere molto numerose, in realtà noi ci aspettavamo una sorta di calo delle domande dopo 7-8 mesi di erogazione, invece vediamo che ci sono 629 domande in media a settimana, sono appunto oltre 21.000 le domande in regione, e pensiamo che questo strumento, questo aiuto economico, reddito di solidarietà per i nostri cittadini emiliano e romagnoli solo un anno fa non esisteva, cioè chi era in condizioni di grave disagio non aveva niente. Oggi ha questo reddito di solidarietà che tra l'altro prossimamente, proprio in queste settimane, verrà ulteriormente modificato e quindi viene elevato nel suo ammontare, per cui ci sarà, si passerà da quel contributo di 80 euro mensili a persona a minimo 110 euro fino a 300 euro al mese a persona, quindi verrà elevato il sussidio e allungata la durata, cioè sino a 18 mesi invece che 12. La soglia ISEE viene allineata a quella nazionale, quindi passa da 3.000 a 6.000 euro, sono tutti aggiustamenti che via via ci consentono anche di accogliere una maggiore platea di beneficiari e quindi anzi approfitto anche per ringraziare tutti gli operatori degli sportelli sociali dei comuni che davvero stanno facendo un lavoro straordinario. Quindi non sarà un aiuto esaustivo, sappiamo bene che per uscire dalla soglia di povertà servono tantissimi strumenti e tanto impegno, però è un primo passo, un primo tassello che in Regione Emilia Romagna ha un valore anche più elevato che in altri territori, anche perché il costo della vita è più alto, da noi e di cui davvero siamo molto orgogliosi. Ecco, un rendito di solidarietà non le piance di quello che propone il Governo? Sì, c'è una proposta per ora molto sulla carta, quindi abbiamo letto di un reddito di cittadinanza però nel contratto di Governo ma abbiamo anche sentito che se ne parlerà fra due anni perché ci pare di capire che prima verrà fatta una riorganizzazione dei centri per l'impiego che avrà una durata piuttosto lunga, quindi al momento mi sa che insomma occorre aspettare. Quindi diciamo che di fronte alle parole, alle promesse, l'Emilia Romagna invece ha contrastato con i fatti. Il reddito di solidarietà esiste, io non ho nulla contro il reddito di cittadinanza perché sono convinta che un reddito minimo, cioè un aiuto minimo a chi sta in condizioni di grave disagio, soprattutto nelle società in cui si cresce molto e in cui c'è un buon sviluppo economico come in Emilia Romagna, debba essere dato. Quindi se verrà fatto il reddito di cittadinanza mi auguro che verrà allineato all'esperienza che l'Emilia Romagna sta facendo, però al momento c'è quello che la giunta a Bonacini ha fatto in Emilia Romagna e vedremo quello che ci aspetterà. Sì dunque, oggi in Italia con il reddito di inclusione da luglio di quest'anno e in Emilia Romagna in più con il reddito di solidarietà abbiamo un reddito minimo contro la povertà universale, il che è molto importante soprattutto perché la povertà ha cambiato faccia negli ultimi 15 anni in Italia. Dopo la grande crisi iniziata nel 2008 la povertà ha cambiato il rischio di povertà si è esteso a molte fasce sociali, è difficile definire chi sono oggi i poveri perché con il mercato del lavoro che ha cambiato molto, con l'economia che è diventata molto più incerta e variabile nei suoi andamenti, un certo rischio di povertà ce l'hanno tutti, il rischio di cadere. Quindi io vedrei questi sussidi, questi redditi minimi non solo con una funzione di tipo assistenziale ma anche con una funzione di tipo assicurativa. chiaro che non esiste una polizza di assicurazione contro il rischio di povertà, dove non ci sono assicurazioni private c'è lo Stato, cioè la collettività che garantisce a tutti contro il rischio di passare periodi di povertà. Quindi mentre 15 anni fa i poveri erano soprattutto anziani soli, oggi i poveri sono anche famiglie con figli, famiglie giovani che hanno perso il lavoro, 50 anni che hanno perduto il lavoro con la crisi e che hanno bisogno di un sussidio per coprire gli anni che li separano dalla pensione. Quindi il rischio si è generalizzato ed è quindi molto importante che l'Italia finalmente abbia un reddito minimo universale, cioè non legato ad alcuna categoria di appartenenza. Il costo della vita nella regione Emilia Romagna è più alto rispetto alla media nazionale, quindi la regione ha integrato il minimo nazionale con una misura appunto regionale che rende il sussidio adeguato a vivere in modo dignitoso in una regione con i prezzi, con il livello di vita piuttosto alto come l'Emilia Romagna e come tutto il nord in generale. Dal rapporto di monitoraggio del reddito di solidarietà che abbiamo fatto per la regione Emilia Romagna, quello che emerge è che al momento, quindi dopo otto mesi di attivazione della misura, una famiglia su set tra le famiglie che hanno un'ISA inferiore ai 3.000 euro è già beneficiaria del resto. Questo appunto è un tasso di copertura che potrà sembrare piccolo, ma innanzitutto è molto interessante dato il poco tempo e dati anche le interruzioni legate alla modifica della misura nazionale che ci sono state nel frattempo. In più è un dato assolutamente incoraggiante considerati i valori che si osservano in media a livello europeo. Redditi minimi con esperienze decennali hanno in media un tasso di copertura del 50%, i redditi minimi dei paesi più virtuosi in Europa raggiungono il 75%, il 100% è di fatto quasi impossibile da raggiungere per diversi motivi, in particolar modo per lo stigma, cioè per la paura di essere giudicato e di essere emarginato socialmente perché ti dimostri vulnerabile, ti dimostri una persona bisognosa di aiuto e anche per le difficoltà burocratiche amministrative che stanno dietro la richiesta di una misura di questo tipo. Molte famiglie in condizioni reddituali così basse sono scarsamente educate e quindi hanno maggiori difficoltà nel comprendere quali sono i requisiti necessari e comprendere che essi stessi sono elegibili per la misura. In più questo fenomeno è particolarmente aggravato quando l'importo è basso, per questo motivo ci aspettiamo che il nuovo RES che integrerà la nuova misura nazionale, il REI, aumenti notevolmente questo tasso di occupazione e di copertura nel tempo.